Viaggiava alla massima velocità in assenza di protezioni l'orditoio che lo scorso 3 maggio ha agganciato e risucchiato Luana Dorazio, la mamma di 22 anni morta nell'orditura Luana, l'azienda con sede a Oste dove lavorava come operaia. Lo scrive il Corriere Fiorentino che ha anticipato la perizia sul macchinario. Perizia arrivata oggi sulle scrivanie del procuratore Giuseppe Nicolosi e del sostituto Vincenzo Nitti, titolare dell'inchiesta. L'anticipazione conferma l'ipotesi del primo minuto, la rimozione delle cautele antinfortunistiche. È questa, insieme all'omicidio colposo, l'accusa con la quale sono stati iscritti sul registro delle notizie di reato, la titolare dell'orditura Luana Coppini, il marito Daniele Faggi, ritenuto gestore di fatto della ditta, e il manutentore del macchinario Mario Cusimano. Carlo Gini, l'ingegnere specializzato in automazione industriale, incaricato dalla procura di redigere la perizia, ha ricostruito il funzionamento dell'orditoio costruito dalla tedesca Karl Mayer, lo stato dei dispositivi di sicurezza e in particolare della saracinesca, le manovre necessarie non soltanto alla loro esclusione, ma anche a consentire comunque tutte le fasi della lavorazione. Sulle scrivanie dei magistrati, anche gli esiti delle verifiche fatte dalla Guardia di Finanza, a cui è stato chiesto di misurare gli effetti della manomissione del macchinario sui conti dell'orditura. In altre parole, la procura vuol sapere l'ammontare del beneficio economico fruttato dall'orditoio, una volta privato, delle protezioni. È possibile che nei prossimi giorni gli indagati compaiano di nuovo davanti agli investigatori per chiarire il ruolo, la conoscenza e la consapevolezza rispetto ai fatti contestati.